Controverso, discusso ed eccentrico, Osvaldo Supino è l'unica web star italiana, l'unico artista che è nato dal web e riuscito a conquistare in breve tempo la ribalta mediatica e le classifiche di iTunes. Di lui hanno parlato tutti, dal TG1 al TG Como fino a Vanity Fair, è il più cliccato e discusso in rete, tanto da detenere il record come unico italiano nominato tre volte al BT Digital Music Awards in Inghilterra, dove lo scorso ottobre ha battuto perfino Kylie Minogue, con oltre 42.000 voti provenienti da tutto il mondo. Oggi è approdato a Napoli per partecipare alla trasmissione Made in Love, noi lo abbiamo incontrato nel Dietro le Quinte. A Napoli sei qui per partecipare a Made in Love, questa trasmissione innovativa che ha sfondato delle vere e proprie porte di pregiudizi, tu che in questo settore sei stato anche tu, insomma, attraverso il web uno dei primi a volere in qualche modo raccontare l'amore e la sessualità così liberamente, senza pregiudizi, non potevi mancare a questo appuntamento. Ma io sono molto contento anche perché lo seguo in streaming, quindi sono molto curioso di incontrare davvero i protagonisti di questo programma e vorrei da parte mia, da parte credo di tutti, gli utenti internet ringraziarvi perché sicuramente è un passo in avanti e è fatto con molta professionalità, sicuramente. Sei giovanissimo ma sei una web star, ti possiamo per l'appunto definire perché i tuoi video sono cliccatissimi, sono seguitissimi. Quando è nato tutto ciò? Come è cominciata? Ma parte tutto dalla mia passione, nel senso che io ho sempre voluto fare musica fino a quando ero molto piccolo. Questa cosa del web è nata da sola, anche perché, a dire il vero, il web è un po' incontrollabile, non puoi scegliere di fare un video che poi diventerà il più cliccato, quindi è tutta fortuna e forse anche è seguita da tantissimo impegno che ci metto io e delle persone che mi sono accanto e che credono in quello che faccio. Il tuo brano che preferisci? Oddio ce ne sono tanti, ognuno ha una propria storia, però sono particolarmente affezionato a quello che presento stasera, qui in anteprima, che si chiama L'El più Let Me Go, che fa parte del mio nuovo EP, insomma, spero vi piaccia.